Il nostro corso ogni anno organizza un raduno in una località d'Italia. L'anno scorso si è prescerta Termoli e quindi sono stato incaricato di organizzare questa manifestazione. In pratica si articola in tre giorni e mezzo, l'arrivo sarà domani. 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 Grazie a tutti. 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 Niente... Niente... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.